Come è noto svolgo un'importante attività pro bono gratuitamente ed è una scelta di vita che ho ormai fatto da tanti anni di poter essere utile e dare una mano a chi ha bisogno di essere aiutato. Ovviamente avendo una competenza giuridica la mano che posso dare è in termini di suggerimenti, consigli e soluzioni legali e giuridiche a chi ha problemi di questa natura. Quindi per curiosità, difficoltà e problemi che persone fisiche o aziende e quindi titolari di aziende per le loro attività possono avere con banche, finanziarie, agenzie delle entrate quindi con il fisco, con i fornitori, con gli insoluti a vario titolo potete lasciarmi domande o istanze, richieste nei commenti nel privato, vi farò richiamare o vi richiamo io direttamente per approfondire la situazione e potervi essere utile con suggerimenti, soluzioni giuridiche e legali. Sarà per voi come avere un avvocato in tasca, uno ha bisogno del fazzoletto, tira fuori il fazzoletto dalla tasca bisogna dell'avvocato, estrae l'avvocato dalla tasca, cioè una sorta di pronto intervento visto che tante volte avere dei consigli è importante la tempestività noi io sono e so essere veloce e tempestivo per potervi aiutare. Arrivederci a tutti.